Non dovevi cercare la chiave. Sarebbe stato meglio lasciarla dove era. Ma hai insistito! Credi sia facile fare il re? Le mie scelte comportano delle conseguenze. Chi vive? Chi cade? Quello che è meglio per tutti. E la gente mi dice che cosa dovrei fare. E cosa invece no! Chi dovrei essere? E come regnare? Indietro! È la battaglia di mio fratello. Non riguarda solo te, ma il nostro popolo. Si tratta del Wakanda! Credi che io non lo sappia? Si fidano perché faccio ciò che è giusto. E non tradirò mai questa fiducia. Io sono il re. Non gli Avengers. Non i miei ministri. Non nostra sorella. E non te! Papà non l'avrebbe voluto. Lui non avrebbe mai ammesso dei nemici nel Wakanda. Giappa! Grazie!